Fondazione Mondo Digitale e Johnson & Johnson hanno presentato a Roma, presso l'Università Campus Biomedico, la quarta edizione di Fattore J, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sul valore dei progressi scientifici per la salute, il benessere e la qualità della vita di tutti. Sono numerose le novità di quest'anno, l'importanza della prevenzione, dell'innovazione terapeutica e dell'uguaglianza nell'accesso alle cure, per raccontare ai ragazzi e alle ragazze il valore della scienza, le sfide del sistema sanitario e le opportunità della medicina del futuro, grazie anche alla velocità impressa dall'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Mirta Michilli, direttrice generale di Fondazione Mondo Digitale. Il progetto Fattore J compie quattro anni, ci può fare un bilancio del lavoro svolto? Fattore J è giunto alla sua quarta edizione, è un'iniziativa voluta dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Johnson & Johnson, è un progetto bellissimo che si rivolge ai giovani di tutta Italia e tratta i temi della salute, come il protagonismo giovanile, la responsabilità di comportamenti individuali possano influenzare la salute individuale e la salute collettiva di tutti quanti. Abbiamo già formato 26 mila studenti, raggiunto con delle campagne di prevenzione 300 mila, non lavoriamo da soli, abbiamo il coinvolgimento di 18 associazioni di pazienti, tre partner accademici, l'Università Campus Biomedico, l'Università di Siena, il Politecnico di Milano, insomma un ecosistema bellissimo a supporto del protagonismo giovanile perché un futuro può essere un futuro di salute per tutti. Quali sono le novità di questa edizione? Questa edizione sicuramente porrà una maggiore attenzione sul protagonismo giovanile per assicurare un futuro in salute per tutti, partendo dalla sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale. Lavoreremo a webinar educativi, sempre con il coinvolgimento di esperti del campus biomedico, di volontari di Johnson & Johnson perché abbiamo costruito un grandissimo volontariato aziendale e poi i ragazzi avranno la possibilità di fare volontariato presso le associazioni dei pazienti. L'inaugurazione ma anche l'animazione da parte dei giovani della nuova sede di Johnson & Johnson di Milano ed infine una nuova categoria di competizioni per team e misti, scuole, università, health bot su idee innovative per robotica, intelligenza artificiale applicata alla salute che verranno mostrate in occasione della ROMCAP 2024 che si terrà presso l'Università Torvergata di Roma dal 20 al 22 marzo.